Una bellissima giornata organizzata dall'associazione sportiva di Colledara che vedrà grandi ospiti presenti sul nostro territorio sicuramente una bella giornata soprattutto per i ragazzi Un'educazione sportiva anche perché si parte sempre dai più giovani Sì, una giornata in cui parliamo del valore del fair play ovviamente soprattutto dedicato ai ragazzi che rappresentano il nostro futuro Ci saranno questi ospiti che mi hanno dato e li ringrazio perché senza di loro lo sport non può andare avanti soprattutto quando si parla di fair play, di rispetto alle regole queste persone qua sono quelle che ti aiutano Spero che sia una giornata veramente di sport e di inclusione perché io ripeto ci saranno le scuole dell'istituto convenzivo di Isola Colledara e saranno circa 300 ragazzi dove verrà fatto, verrà fatto nel ristorante La Fornace una location di Stubenda per Colledara dove abbiamo le spalle di Gran Sasso le amministrazioni locali, i sindaci ci sarà il prefetto che è stato invitato e non ha fatto altro che garantire la sua presenza il vescovo e spero che sia una giornata di sport, di inclusione e di rispetto per gli altri Anche di divertimento con Stellina non farà il suo spettacolo tra virgolette ma lui ci tiene perché dirà una poesia che mi ha detto porterà i ragazzi perché lui è così quindi sa ridere, sa anche stare nel sociale ma tutto fa sociale